Credo che andare controcorrente sia stato un atto enorme di coraggio, però questo ci ha ripagato perché solo il 3% di tutto il bilancio è stato coperto dall'ente pubblico, il comune, che poi praticamente ci ha pagato qualcosa sugli alberghi per le ragazze, per le atlete. Per tutto il resto abbiamo avuto un grandissimo riscontro da parte della città, da parte degli sponsor, insomma sono soddisfatto. Vorremmo avere un torneo di qualità, abbiamo contattato delle top 10, stiamo vedendo pure tramite un direttore artistico di fare delle attività collaterali. Lanceremo l'idea di un torneo per una wildcard a segnare alla migliore italo-americana presente a New York. 450 sono venduti in una settimana, è un segnale molto bello che ci aspettiamo a questo punto, non solo di confermare ma di superare se non raddoppiare i numeri dell'anno scorso. La Palermo Ladies Open Card è una carta che dà diritto a degli sconti in dei negozi fidelizzati, questi sconti sono ottimi e in ogni caso danno anche la possibilità ai tifosi del tennis di avere dei negozi di fiducia. Per partire delle giocatrici cercheremo di mantenere quello che è stato fino ad ora il nostro standard, quindi una top 10, una o due top 20 e poi il nostro sogno è quello di avere sempre la Sharapova che oggi si allena in Italia e quindi ancora più vicina a Palermo.